Ieri la lettera da parte di una cittadina modicana che denunciava quanto accaduto all'interno di una casa di riposo per anziani, problemi con i tamponi e con l'avvio della prassi anti-covid, poi la negata possibilità di effettuare test per tutti gli ospiti della struttura. Insomma, una denuncia in piena regola rivolta all'azienda sanitaria che adesso replica rigettando tutte le accuse. Dopo la segnalazione del reparto di medicina generale nella stessa giornata, precisa l'ASP, il tampone è stato effettuato a tre anziani. Il risultato, acquisito il giorno dopo, ha registrato due casi positivi. A seguito di ciò è considerato che nessuno degli altri ospiti era sintomatico, si è programmato di effettuare il tampone dopo cinque giorni. Il personale dell'USCASI è quindi recato nella casa di riposo Villa dei Nonni. Anche la responsabile della struttura aveva richiesto di sottoporre a tampone altri soggetti che, a suo dire, risultavano contatti stretti di positivo. I medici hanno quindi constatato che i due ospiti risultati positivi, quelli del 3 dicembre, si trovavano in isolamento, ognuno nella propria stanza al piano inferiore della struttura. Al piano superiore si trovavano riuniti i restanti ospiti, la maggior parte di loro senza mascherina. Gli operatori, invece, erano tutti muniti di DPI previsti. Dei 20 tamponi eseguiti quel giorno, ben 14 sono risultati positivi. Alla luce dei fatti raccontati dall'ASP, la stessa azienda sanitaria quindi precisa di essere venuta a conoscenza di affermazioni, prive di fondamento e in particolare quando nella lettera di ieri si affermava che i tamponi erano stati fatti solo per due nonnini e che il medico di base di uno degli operatori sottoposto a test, ad oggi, non ha ricevuto nessuna comunicazione. Se la prima non è vera, afferma l'ASP, la seconda è altrettanto infondata, in quanto l'ASP di Ragusa è dotata di un sistema informativo che consente di controllare, in tempo reale, l'esito dei tamponi effettuati ai propri assistiti. Grazie per la visione!